Nasce ufficialmente oggi qua a Rimini un comitato sulla base di un documento programmatico a sostegno di Renzi come nuovo segretario del Partito Democratico a livello nazionale. Nasce qua a Rimini, quali sono gli obiettivi e su quali basi vi muovete? Oggi con questa conferenza stampa presentiamo ufficialmente il documento politico a sostegno della candidatura di Matteo Renzi, segretario nazionale del Partito Democratico e nasce grazie ad un contributo importante di tanti amici del territorio. È un documento scritto a più mani proprio perché la candidatura di Matteo Renzi qui a Rimini sarà sostenuta da un gruppo molto importante di amministratori. Andiamo dalla Valconca con il sindaco di Mondaino, assessore di San Giovanni Marignano, Cattolica, Rimini, Riccione. Insomma tanti amici che oggi contribuiranno anche con la loro presenza a spendersi per la campagna elettorale di Matteo Renzi, segretario nazionale. Questo documento però declina anche le proposte che questo gruppo, questo ampio sostegno di riminesi vorrà dare per il congresso provinciale perché comunque anche a Rimini si voterà per il segretario provinciale e questa compagine comunque legata a Matteo Renzi sosterà un proprio profilo con l'obiettivo di allargare il più possibile il consenso da parte di tutti coloro che vogliono un cambiamento vero di questo partito, un partito nuovo, un partito che comunque rispecchi le esigenze che sono uscite dalle urne e quindi chiedono cambiamento.